Ma no, nessun problema, nessun partito, ognuno fa il suo mestiere, il mio mestiere è tenere i miei giocatori tutti concentrati sulla partita molto importante di domani, perché dobbiamo fare in modo di giocare come l'abbiamo fatto con Corgeno, perché sono ancora tre punti da guadagnare e lo faremo solo se siamo tutti concentrati a tutto il tempo, è questo che mi ha detto la mia scuola e il mio mestiere, quindi è che, si attrezza dello sport.